Se Napoli ed Inter vorranno spiccare il volo in campionato, molte delle loro fortune dipenderanno dai rispettivi centravanti, alle prese però con momenti diametralmente opposti. Gonzalo Higuain sta vivendo la sua miglior stagione a Napoli, con Maurizio Sarri che sembra averlo rigenerato. Scenari opposti invece per Mauro Riccardi, che Roberto Mancini non considera più un'intoccabile. Analizzando la media gol a partita in Serie A dei due attaccanti dallo sbarco in Italia del Pipita, emerge come i due argentini siano riusciti a segnare un gol ogni due partite. Media realizzativa che prende però due strade diverse in questo campionato, con Higuain a salire a 0,77 e Icardi a crollare a 0,36. Se Roberto Mancini ha trovato altre chiavi per la sua Inter, Higuain resta ancora centrale per i successi del Napoli. Comunque vada al San Paolo, sarà spettacolo!